1, fight Eccomi ragazzi, sono il vostro amico youtuber Gabri Hosta, il re dei videogiochi Dopo aver completato 15 capitoli della modalità storia di Mortal Kombat 9, siamo arrivati al 16esimo e ultimo capitolo E in questo 16esimo e ultimo capitolo useremo Raiden e il Dio del Fulmie In questa prima battaglia del 16esimo capitolo dobbiamo battere Scorpion Se sconfiggeremo Scorpion e lo toglieremo di mezzo, andremo a parlare con lo stregone Quan Chi Voglio vedere cosa succederà dopo aver sconfitto Scorpion Era tanto che non si vedeva Scorpion dal Colosseo del Regno Esterno Non credevo di essere arrivato al 16esimo e ultimo capitolo, ce l'abbiamo fatta ad arrivarci Mi sembra che Raiden ha sconfitto Scorpion e Gabri Hosta a questo punto vi saluta Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace